... Deve proseguire da solo Dolcetti davanti a Mulato, salta anche il portiere a rigore, rigore in eccezio... ...in corso di bala, parte il tiro, spiazzato il portiere, Erete, 2 a 0... ...Amadei, Amadei per Scienza che non è in fuorigioco, anticipo di Scienza, Erete, Rete di Scienza che non era in fuorigioco, ferma la difesa juventina e al 39esimo Scienza triplica... ...è sterrefatto la difesa... ...quindi punteggio più che rotondo, 3 a 0 del Novara sulla Juventus che lascia un po' sterrefati i tifosi bianconeri... ...